Noi trattiamo di uscire e fare delle cose migliori, molti dei miei pensati lo hanno fatto, c'è una circensuale di territori immigrati peruviana, anche sull'americana, che hanno dite le murature, le edilizie, le pulizie. Forse il nostro contributo è questo, perché noi come peruviani la nostra integrazione è stata fatta in un 80%. Perché un 80%? Perché politicamente c'è una reciprocità tra l'Italia e il Perù. Perché noi qua, quando arriviamo, non possiamo partecipare nella via politica. Invece che succede quando un cittadino italiano va in Perù? Dopo due anni che è residente nel Perù, lui può essere eletto il consigliere comunale. Invece noi abbiamo un trattato di Strasburgo che non va rispettato in Italia. Dico un 80% perché noi abbiamo delle difficoltà. Vogliamo essere partecipi anche nella vita politica. Perché? Perché così come gli italiani hanno dei problemi, anche gli stranieri e ogni paese di appartenenza ha dei problemi. Uno di questi, per esempio, per citare, noi come comitato, perché faccio parte anche del comitato referente al continente americano, abbiamo presentato delle proposte di legge al governo peruviano per il ritorno dei peruviani che si trovano all'estero. In questo caso abbiamo partito dall'Italia, dall'Europa. Perché con la crisi economica molti peruviani hanno cominciato a ritornare. Però c'è un problema. I tempi che loro hanno lavorato, i contributi che loro hanno versato all'Inps si perdono. Non si può portare. Allora, ci sono delle persone che vorrebbero rimanere ancora fino all'età pensionabile. Io dico hanno molto coraggio, però non sanno che ogni anno che passa il governo italiano aumenta l'età pensionabile. Mi pare che prima erano 60, poi 62, adesso 65, poi arriva la 67. Allora che succede? Molti stanno andando via anche se non possono portare le sue pensioni, quello che hanno portato all'Inps. A questo punto ci siamo mossi e anche come comitato sempre abbiamo fatto una nuova proposta di legge al governo peruviano che i convegni bilaterali per reciprocità in materia di sicurezza sociale. Abbiamo già organizzato alcuni eventi al rispetto di Asiana Camera, anche nelle altre sedi delle associazioni, per che non sia soltanto un problema che riguarda il Perù, perché riguarda tre paesi con un alto indice di migrazione in Italia, quali sono il Perù, l'Equador e la Bolivia. Altri paesi ce l'hanno, i convegni bilaterali come sono Cile, Venezuela, Argentina. Parlare del contributo peruviano è dire che noi siamo un popolo che piace lavorare, anche se ci sono sempre casi isolati dei problemi sociali che voi conoscete a volte per le cronache, però non vuol dire che per un cittadino che si comporta male non dobbiamo parlare. E' questo che io sempre lo ripeto, perché noi siamo a 160.000 peruviani in Italia fino all'anno scorso, però questo anno è cresciuto perché stanno tornando, siamo arrivati adesso a quasi 150.000, 195.000. A Roma siamo a 17.000 registrati del Consolato peruviano. La maggiore percentuale dei peruviani si trova al nord Milano, tutta la Lombardia. Quello che vorrei aggiungere al mio contributo oggi per essere sentito e dire che volevamo anche che sia un parlamentario o un funzionario dello Stato ci possa anche loro ricevere per parlare dei nostri problemi, perché a volte non c'è questo. Noi siamo veramente isolati, non abbiamo un punto di riferimento per poter dire guardi questi sono i nostri problemi. E questo forse un domani, un dopodomani, credo sia partibile se noi possiamo partecipare nella vita politica italiana. Sono questo. Grazie mille.